E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, un saluto dallo stadio olimpico Grande Torino, da Andrea Di Staso. Torino-Inter, è il match delle 12.30 di questa domenica, nella trentunesima giornata. Una sfida che vale tantissimo per le ambizioni di classifica di un Inter, che dopo il passo falso della Roma contro la Fiorentina, vuole scavalcare i giallorossi e salire al terzo posto. Dalla parte opposta c'è un Torino che non vuole fermarsi. Ultimi ceni d'intesa, tra tagliavento i suoi collaboratori, si parte! Vacanselo dalla bandierina, Icardi! Miracolo di Sirigu! Sulla girata improvvisa di Icardi! Riflesso clamoroso dell'attaccante dell'Inter, ancora di più quello del portiere del Torino. Occhio però a Icardi, che controlla, smista sulla destra per Candreva! Che scalda i guantoni di Sirigu! Altra palla a gol per l'Inter in contropiede, al diciottesimo. Ma ancora Cancelo, di testa Perisic! Va a pizzicare la parte alta della traversa. E al ventesimo, terza palla a gol Inter. E ora inizia a diventare piuttosto importante il conteggio. Ora va lui fuori, per Candreva! All'area è spinta! Da parte di Sirigu. Palone raccolto da Skriniar. Ancora una volta la risposta di Sirigu. Belotti approfittando dello scivolone di Gagliardini. Un po' scoperto qui l'Inter. Accompagna Iago Falchi. Si muove anche De Silvestri. La palla gli arriva con un pizzico di fortuna. Cross un secondo palo! Elias al trentaseiesimo! Porta avanti il Torino! Da nulla la squadra di Mazzarri! Colpisce in contropiede. Aveva perso il pallone Belotti. Ma una carambola favorito De Silvestri che trova il grande ex sul secondo palo. Ben ritrovati dall'Olimpico grande Torino. Nuovamente in campo Torino e di Inter. Si riparte dall'1-0 abbastanza inaspettato. Possibilità Inter centralmente con Brozovic. Brozovic! Lijac, traiettoria tagliata! E miracolo di Andanovic su De Silvestri! Non voleva essere da meno il portiere sloveno Sirigu. Parata preziosissima! Che risolve tanti problemi all'Inter. Ad un passo da raddoppio il Torino. Ansaldi se ne va in dribbling su Cancelo. Lascia sul posto anche Gagliardini. Supera Brozovic! Scatenato Ansaldi! C'è Lijac che chiama la palla a sinistra! Eccolo Lijac! Lijac! Non prende la porta da buona posizione! Occasione Toro! Stavolta disegna una traiettoria molto lunga. Miranda! E salvataggio clamoroso d'Inculu! La palla si stava infilando sul secondo palo e c'era Icardi pronto a ribadirla. Cancelo traiettoria molto alta che scavalca Perisic. Rafinha piazza a sinistro che si stampa sul palo. Non è finita. Cancelo dentro! E rischia l'autogol Hobby per precedere Gagliardini. Assalto rabbioso dell'Inter. Gagliardini, Caramo, destro! Festeggia! L'Olimpico grande Torino! Mazzarri si è preso la sua vendetta! Un gol di Lijac! Un altro ex! Condanna al quarto capo stagionale! La banda Spalletti!